Sono 2400 i trapianti effettuati a Verona dall'intervento realizzato da Piero Confortini il 29 novembre 1968. Verona insieme a Roma può vantare una così lunga esperienza in questo campo con una paziente che ha alle spalle 47 anni di sopravvivenza dal trapianto realizzato con un rene della mamma vivente. Verona è il secondo ospedale in cui è stato eseguito un trapianto d'organo in Italia. E' tra i primi d'Europa. Festeggiare 50 anni è un bel traguardo. Pensiamo che possa essere una bella festa soprattutto ed anche per i pazienti. Vogliamo che vengano tante persone. Vogliamo che ci siano tutte le persone che hanno lavorato, che stanno lavorando in questo campo. Donazioni e anche trapianti. Quanto sta crescendo il trapianto da vivente a vivente? Dopo un periodo di bassi numeri negli ultimi 6-7 anni c'è un'importante crescita di questo tipo di trapianto che se opportunamente diffusa attraverso una corretta informazione probabilmente potremmo arrivare, non dico al traguardo dei paesi del Nord Europa o dell'America dove sono il 35-40-45% di tutti i trapianti di rene ma poi quantomeno arrivare a cifre intorno al 25-30%. Tenevo presente che abbiamo 8.000 pazienti in lista d'attesa in Italia di trapianti globali. Di questi 8.000, 6.700 aspettano un trapianto di rene. Per esempio adesso c'è rara anche la risorsa del donatore samaritano cioè una persona che dona un rene senza sapere chi è il ricevente. Negli anni le tecniche sono sempre più migliorate. Presente in conferenza stampa anche il dottor Tedeschi che di recente ha effettuato con la sua equip un eccezionale trapianto di fegato senza trasfusione di sangue, il primo nel Triveneto per una paziente testimone di Geova. Le problematiche religiose rappresentano una sfida per la medicina e per l'etica in alcuni casi limite in cui la volontà del paziente prevale sulla tutela della sua vita.